Perché hai scelto di fare il servizio civile? Ho scelto di fare il servizio civile per acquisire più professionalità e esperienza nel mondo del soccorso. Che tipo di attività svolgi? Io svolgo servizi secondari, quindi di missioni e visite per gli utenti, svolgo servizi di emergenza e urgenza con gli altri dipendenti e svolgiamo anche dei servizi sportivi, quindi assistenza alle manifestazioni sportive. Lo suggeriresti? Sì, lo suggerirei perché è un momento di aggregazione, è un momento di esperienza come magari anche primo lavoro ed è bello farlo.